Bisogna ascoltare le comunità. È assurdo che nell'unione più grande delle Marche, con un bacino di utenza di oltre 140.000 abitanti e più di 16.000 imprese, si possa pensare di concentrare le vaccinazioni in un solo punto, al centro Monaldi. A dirlo è il presidente dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Palmirucchielli, che lancia un appello per chiedere altri punti vaccinali, evitando disagi, lunghe file e assembramenti. Tra le proposte, le sedi dei medici di famiglia, la Casa della Salute a Montecchio, il Palavitri e il BCC Palace a Gradara, oltre a un secondo punto di vaccinazioni a Pesaro. Per questo oggi è inviato una lettera all'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, e ai direttori di Asurmarche, dell'area Vasta 1 e del distretto sanitario di base. Continuiamo a fare i vaccini a Pesaro, Fano, Urbino, come se fossero tre comuni, cioè dai territori interni, da Montecchio, da tutta questa vallata, 50.000 abitanti, devono partire, andare a Pesaro. Poi devono fare tutto online, devono fare le prenotazioni. Che senso ha non chiamarli, farli fare su prenotazione del medico, piuttosto che far fare le file, li chiama e fa gli appuntamenti, fa i vaccini. Cioè, sembra fatta, non so, sembra quasi fatta apposta, ma... Spero che questa volta la regione ci ascolti e risponda, prosegue Tocchielli, perché bisogna andare spediti e vaccinare in tempi rapidi in tutti i territori. È necessario trovare una soluzione. Devono andare 150.000 abitanti, tutti al centro monale di Pesaro. Ma siamo normali? Ecco, io comincio a pensare veramente che ci sia qualcosa che non funziona, insomma. Quindi spero, faccia una specie di appello all'assessore regionale, che ho avuto modo anche di conoscere quando eravamo parlamentari, un po' di buonsenso e un po' di ascolto ai sindaci dei territori che conoscono bene la loro popolazione e la loro comunità.